Musica Sembra quasi un fiume che scorre il Glacier Blanc sul massiccio degli Ecrin nelle Alpi Occidentali nelle riprese in time lapse ad alta qualità durate più di un anno. Il video realizzato dal Parco Nazionale documenta come il settore centrale del ghiacciaio apparentemente fermo si è sceso in realtà verso valle di 80 metri mentre i settori laterali proprio come nei fiumi e nelle colate laviche si è limitato a 30 metri.